Ciao Don Alberto, come vedi sono venuto come sempre a trovarti, inquadriamo anche Don Caprotti, Don Giuseppe Longoni, Don Polti Antonio, i parroci di Civenna, ma tu sai che mi sei rimasto nel cuore e come ti ho promesso, appena posso e l'amico Presidente della Fondazione Cariplo, Avvocato Guzzetti, mi darà una mano, voglio fare un libro e pubblicarlo, scusa se mi permetto di dirtelo, vedo che sorridi, hai ragione, sei sempre nel mio cuore, sei arrivato nel 58, un anno fatidico per me e vedrai che riusciremo a farlo col tuo aiuto. Ciao Don Alberto, ti salutano i Civennesi del Civennese e Sergio Merzario. Ciao!